Tra l'atmosfera magica delle sorgenti di Lagole, a Calalzo, le antiche popolazioni venetiche offrivano doni alle divinità guaritrici. Una natura dal fascino magico, acque dall'intrigante odore di zolfo e dalle probabili proprietà curative, dove anche i romani edificarono i loro templi. Per secoli, tra pieve, valle e domegge, le genti romane presidiarono la valle, una presenza che ci ha lasciato i resti di una domus di età imperiale e reperti di eccezionale valore, oggi raccolti al Marc di Pieve di Cadore.